Costruisci questa spirale divertente con una cannuccia e delle forbici. Tieni un'estremità della cannuccia con una mano e inizia a tagliare la spirale. Per farlo avrai bisogno di ruotare continuamente la cannuccia e tagliare con l'altra mano. Continua a tagliare fino a raggiungere la metà della spirale. Ora appiattisci e fai un piccolo buco all'altra estremità per formare una linguetta. Prendi una cannuccia spirale senza linguetta. Se soffi la molla vibrerà. Ora soffia su quella con la linguetta. Potrai anche sentire il suono. A presto! Grazie.